Allora, buonasera a tutti, cominciamo da questo punto. Ci eravamo lasciati 15 giorni fa, dopo aver letto Bonvesin della Riva, e aver letto una serie di pezzi poetici, di poeti che abbiamo definito siculo-toscani, cioè poeti toscani che si ispiravano, ricordate? Buon aggiunto Orbicciani, Chiaro d'Avanzati, abbiamo letto qualcosa di Compiuta Donzella, che era l'unica poetessa donna, sempre che non si nasconda sotto quello pseudonimo un uomo, e Monte Andrea, poeti che si ispiravano sia alla tradizione provenzale che a quella dei siciliani, ovviamente in Toscana. E abbiamo letti, soprattutto, vi ricordate, avevo un po' insistito su questo concetto, per poter poi capire meglio la differenza che c'è con i poeti stilnovisti, cioè con quel nucleo, con quella elite particolare, che nasce in questo territorio toscano, ma che fa un salto di qualità importantissimo rispetto a questa base, che pure è interessante, che pure è importante. Ora, di tutti questi poeti toscani che precedono la svolta degli stilnovisti e di Dante Alighieri, ce n'è ancora uno di cui dobbiamo leggere qualcosa, un poeta difficile, di nuovo, insomma, come non era facile leggere Jacopone da Todi in Umbro un mesetto fa, nella lezione di un mesetto fa. Questo guittone d'Arezzo, di cui ho già accennato nella conclusione della lezione scorsa, c'è un poeta molto particolare, dalla vita assai complessa e da una storia critica anche complicata, perché, eppure essendo, vi dicevo l'altra volta, un modello per tanti poeti che poi lo hanno a modo loro imitato, è stato anche rifiutato da poeti che pure lo imitavano. In particolare sono molto duri nei suoi confronti i giudizi di Dante Alighieri, di Guido Cavalcanti, che pure a lui in qualche modo si ispirano. Hanno dei debiti verso guittone d'Arezzo, ma forse proprio per questo motivo lo disdegnano, lo considerano autore municipale, un autore rimasto indietro rispetto alle novità che si hanno portato nella poesia toscana. Ora, qualche nota sulla, come posso dire, sulla vita, sull'opera di questo poeta. Poi vi leggo due cose e ho messo la traduzione accanto in maniera che non ci facciamo del male. Ci lascia 50 canzoni e ben 251 sonnetti, quindi un corpus molto importante. ed è una produzione divisa in due parti, perché la vita di Guittone è in qualche modo segnata da due momenti diversi, perché come Francesco d'Assisi, come Jacopone da Todi, anche Guittone è un personaggio che ha una parte della vita più spensierata, diciamo così, ed è quella in cui lui come poeta si dedica a testi di argomento amoroso nella chiave sicuro-provenzale, molto simile a quella di altri poeti che abbiamo letto 15 giorni fa insieme. E poi c'è una svolta, chiamiamola così, una sorta di conversione nel 1265, e tutti i testi che vengono dopo questa conversione sono invece o di forte impegno civile, anche politico, oppure di argomento segnato molto dalla tematica religiosa. Cioè, tenete conto che sono cose che succedevano nel Medioevo, perché a noi farebbero un po' impressione. Questo nel 1265 lascia la moglie, bella donna e placentera, l'aveva definito, e tre figlioli, che lui stesso definisce picciolelli, e si fa frate, entra nei frati gaudenti. Cioè, in realtà, frati gaudenti, si chiamavano per la verità frati della milizia della Vergine, ma vennero poi chiamati frati gaudenti in modo un po' sprezzante, perché era un ordine in cui si poteva vivere proprio come celibi, col vuoto di castità all'interno di un convento, ma si poteva anche prendere parte a questo ordine vivendo nelle proprie case. Alcuni continuavano a vivere con la moglie da sposati, però dovevano vestire un certo tipo di abito, evitavano feste, divertimenti, non potevano entrare in cariche pubbliche, dovevano essere fortissimamente impegnati contro le eresie. Insomma, tenete conto che in quegli anni del basso medioevo, entrare in un ordine religioso, lo dico con tutto il rispetto, perché ne ho, non so come dire, degli ordini religiosi medievali, ho grande rispetto e grande ammirazione, se penso cosa è stato l'ordine dominicano, l'ordine francescano, però bisogna anche dire che entrare in un ordine come questo, che poi appunto viene definito dei frati gaudenti, fa capire tutto, consentiva anche di non pagare le tasse in molte zone d'Italia, in molti comuni. Significava anche sottrarsi al tribunale, diciamo, pubblico e essere giudicati da tribunali ecclesiastici, secondo un diritto canonico, quindi sfuggire anche a determinate, come posso dire, a determinati obblighi di legge. Ma insomma, quale che sia, questo Guitone D'Arezzo fa questa scelta, lascia la famiglia e quindi si dedica a questa poesia religiosa e politica. E naturalmente dico subito che la tematica politica è fondamentale nella vita del comune, vale anche per altri autori, ma per uno come Guitone D'Arezzo proprio la poesia politica è importantissima e questo è uno degli aspetti che poi suggestionerà in qualche maniera anche Dante, la grande poesia politica di Dante, anche se lui mai avrebbe detto di avere dei debiti verso Guitone D'Arezzo, certamente Guitone lo ha influenzato. Nelle poesie d'amore poi c'è un'altra diversità rispetto ai provenzali e rispetto ai siciliani, cioè che nelle sue poesie d'amore ci sono anche dei riferimenti concreti, realistici, cioè a qualche storia d'amore reale. Tenete conto che invece in Provenza e in Sicilia è tutto molto astratto da questo punto di vista e altrettanto astratto lo sarà negli Stilnovisti, dove certo Dante poi parla di Beatrice ma insomma tutto è portato in un'atmosfera rarefatta, non ci sono mai riferimenti precisi ad avvenimenti per cui non sono storie d'amore nel senso che potremmo immaginare noi con dei riferimenti alla concretezza. Era un conservatore guelfo, un uomo che guardava sempre alla politica diciamo dei ceti aristocratici che avevano un tempo dominato il comune e è ancora molto legato alla dimensione comunale, cioè non ha un orizzonte politico vasto come potrà essere quello di Dante. Però ci sono anche degli aspetti innovativi in questa persona, perché intanto questo suo canzoniere già si configura un po' come una vita, cioè ci sono appunto poesie scritte prima della conversione, poesie scritte dopo la conversione, un itinerario verso Dio in qualche modo, il viaggio di un'anima dal terreno al divino e lui raccoglie queste rime che ovviamente ha scritto in diversi momenti della vita, sarebbero rime sparse, ma ne fa un libro, ne fa un canzoniere, le mette in un ordine che rappresenta un po' il cammino della sua biografia, una cosa che farà anche Dante quando raccoglierà le sue rime dentro la vita nuova e farà Petrarca quando le raccoglierà nel canzoniere. Cioè voglio dire, Dante, Petrarca, ma anche Guittone per primo, non hanno scritto quello che noi leggiamo nell'ordine in cui lo leggiamo, hanno scritto poesie sparse e poi a posteriori le hanno incasellate, incastonate dentro un unico disegno, le hanno in qualche maniera numerate, le hanno ordinate facendo in modo che sottracciassero un vero e proprio itinerario biografico. Devo dire che è uno dei poeti più tecnici e più difficili che si possano leggere nella letteratura italiana, anche perché faceva molti esperimenti linguistici, tecnici, formali e anche per questo veniva guardato poi dai successori, stilnovisti, dai cavalcanti e da Dante con un certo, ripeto, se non disprezzo, un certo distacco, perché invece essi puntavano a una poesia luminosa, armoniosa, di grande perizia tecnica, ma che nascondesse gli artifici, non li facesse sentire in maniera così esasperata come capita nella poesia di Guittone. Certo, è un contemporaneo di Guido Guinizelli, di Guido Cavalcanti, ma non comprende assolutamente la novità di questi poeti, non ha conoscenze filosofiche e la filosofia non entra mai nei suoi testi, quindi è un poeta che rispetto alle punte avanzate che già emergono nell'epoca in cui vive potremmo considerarlo arretrato, ma certo perché se noi fossimo vissuti in quell'epoca probabilmente prima di riconoscere il valore innovativo di Dante o di Cavalcanti avremmo detto qual è il poeta più noto di questo tempo è Guittone d'Arezzo. Avremmo risposto così. Adesso faccio un esempio stupido fra di noi che non ci senta nessuno ma come dire uno che aveva negli anni diciamo a fine anni 50 inizio anni 60 60 o 70 anni e sentiva il festival di Sanremo e avessero detto ma qual è il cantante più importante oggi? Magari avrebbe detto Claudio Villa anche se c'era già Celentano, c'era già tutto un altro modo di cantare capite? Adesso Dio perdoni l'accostamento ma sta così in quel momento è più facile guardare come posso dire all'autore tradizionale che accorgersi della novità che sta già incominciando e che magari affascina l'elite dei giovani ma non chi è già un po' più avanti con gli anni. Così capitò a Guittone che era considerato un grande poeta mentre già apparivano quelli che sarebbero stati molto più grandi di lui poi ma non era facile capirlo nel momento. E ora vedete come Dante ne parlava dopo dice Dante cessino i seguaci dell'ignoranza di esaltare Guittone d'Arezzo e certi altri che nei vocaboli e nei loro costrutti non perderono il vezzo di imitare la plebe cioè la lingua di poeti come Guittone ma lui probabilmente pensa anche a quegli altri che abbiamo letto la volta scorsa e chiaro d'Avanzati Monte Andrea gli Orbicciani hanno un linguaggio che imita la plebe non si sono staccati dal linguaggio municipale si sente troppo come sono legati alla loro piccola città Dante ancora dice nel De Vulgari Eloquenzia che è il suo libro in latino in cui fa una vera e propria storia della letteratura che lo precede queste cose le leggo in italiano ma Dante le ha scritte in latino Guittone Aretino non puntò mai al volgare curiale Bonaggiunta Lucchese ed altri le poesie dei quali ad aver tempo e voglia di scrutarle attentamente si riveleranno non di novello curiale ma soltanto municipale cioè sono legate al municipio alla città non alla curia Dante diceva che se l'Italia avesse avuto una reggia in quella reggia ci sarebbe stata una poesia curiale della curia ecco e questa curia in Italia non c'è perché non c'è il re d'Italia non c'è la capitale d'Italia ma lui riteneva di essere un poeta che lavorava per creare una lingua adatta a questa curia immaginaria poi su questi temi torneremo se arriveremo a parlare del De Vulgari Eloquenzia ma insomma Guittone e altri poeti non sono capaci di alzare la loro lingua dai limiti delle caratteristiche cittadine municipali e poi c'è questa similitudine famosa dove dice Dante poiché la lingua è lo strumento necessario del nostro concetto non altrimenti che non lo sia del cavaliere il cavallo come il cavaliere ha bisogno del cavallo il poeta ha bisogno della lingua e poiché ai migliori cavalieri si convengono i migliori cavalli la migliore lingua come si è detto si conviene ai migliori concetti ma i migliori concetti non possono essere se dove è talento naturale e dottrina i migliori concetti sono dove non c'è solo talento naturale ma c'è anche conoscenza filosofica dottrina dunque la lingua migliore non si addice che a quelli che hanno naturale talento e dottrina ora Guittone è uno che magari naturale talento ce l'ha ma dottrina no filosofia non la conosce meno che mai mette la filosofia dentro la poesia l'avrebbe considerata anche una stranezza no e difatti tutti i poeti di quel tempo da Guittone in giù consideravano una cosa strampalata fare poesie con dentro concetti di filosofia una stranezza no Guido Cavalcanti a sua volta accusava Guittone D'Arezzo di povertà ideologica di incoerenza stilistica insomma lo hanno ricoperto non dico di vituperi ma insomma la generazione immediatamente successiva lo sentiva non come un padre da cui dipendere ma uno da cui prendere le distanze va detto invece l'avevo messo nelle slide poi l'ho tolto perché è un testo veramente troppo complicato ve lo risparmio vi avrei fatto soffrire va detto invece che Guido Guinizelli il padre dello stil nuovo aveva scritto un testo elogiativo nei confronti di Guittone considerandolo una sorta di padre però non ve l'ho messo anche perché poi so che nella critica ci sono alcuni che dicono che invece questo omaggio di Guido Guinizelli verso Guittone è solo un omaggio apparente è ironico sarcastico che cioè valdrebbe letto non come una resa un omaggio ma addirittura una presa in giro allora non ci complichiamo troppo la vita basti dire che appunto grandi poeti come Dante Cavalcanti non ne vogliono sentir parlare di lui devo dire che è un uomo molto attento alla vita politica come vi dicevo è un guelfo in una stagione in cui i guelfi ebbero anche grandi rovesci come adesso vedremo per esempio lui scrive un testo qui l'ho riassunto in prosa perché davvero è molto complicato è difficile leggere nell'originale ma è interessante perché tutti noi sappiamo che fine ha fatto Conte Ugolino e quando Conte Ugolino insieme con sua nipote Nino Visconti governava Pisa in particolare dopo la battaglia della Meloria in cui i genovesi avevano sconfitto i pisani e Ugolino era diventato dopo quella sconfitta il padrone di Pisa lui aveva scritto un carme per il Conte Ugolino e per Nino giudice di Galura in cui diceva voi siete potenti però la vera grandezza deriva dal bene dovete dimostrare il vostro valore dovete amare il prossimo come voi stessi e quindi chi è ammalato? è ammalato il comune di Pisa e voi dovete guarirlo tutto il mondo sa che da voi dipendono il male e il bene della vostra città prendete a modello i romani non i tiranni che distruggono la propria terra agite con onore ne riceverete gioia e vantaggio quindi capite un poeta che si rivolge a due potenti signori in questo caso i due signori di Pisa nonno e nipote Conte Ugolino e Nino Visconti e fa loro la predica fa loro una sorta di come possiamo dire rivolge loro un insegnamento per quello Dante dipende poi da Guittone perché quando uno legge la Divina Commedia hai serva Italia di dolore ostello l'attacco all'imperatore gli attacchi alla chiesa che non lascia governare l'imperatore ecco questo modo di rivolgersi ai potenti sfidandoli rimproverandoli o incoraggiandoli come Dante facevano per esempio nei confronti dell'imperatore Enrico VII che era per lui la speranza di ritornare in Firenze ecco questo modo di rivolgersi ai potenti della terra per amaestrarli o per condannarli o comunque per come dire offrire loro motivo di riflessione parte da Guittone in due modi diceva Guittone ai due governanti di Pisa si può innalzare il grado della propria potenza con la malvagità o con la bontà con la prima si decade facilmente con la seconda si raggiunge un obiettivo eterno vivificato dall'amore i pisani sono consapevoli che la loro guarigione riposta in voi i loro figli penseranno a voi e i vostri discendenti come a salvatori dimostrate di saper distinguere il bene dal male poi le cose sapete come sono andate Ugolino è finito nella torre della fame a morire distenti con due nipoti e due figli mentre Nino Visconti si è salvato perché si trovava in quel momento quando fu arrestato Ugolino dall'arcivescovo Ruggeri si trovava fuori Pisa Dante lo conobbe quando era in esilio Nino Visconti lo conobbe a Firenze e di fatti poi ne fece un personaggio del purgatorio ora vi leggo qualcosa non tutta state tranquilli della canzone più famosa la canzone politica più importante di Guittone D'Arezzo la canzone che dal primo verso si ricorda col primo verso hai l'asso ora la stagion dell'allertanto come dire a me sventurato ora è il momento di soffrire è il momento di piangere scritta nel 1260 subito dopo quando i Guelfi cioè la parte politica a cui Guittone appartiene erano stati spaventosamente sconfitti nella battaglia di Montaperti quella che fu combattuta appunto a Montaperti tra i senesi e i fiorentini ma diciamo pure più i senesi e i fiorentini come i due leader dei due campi di questa battaglia ma diciamo da uno schieramento di ghibellini senesi ma appoggiati dalla cavalleria del re Manfredi di Sicilia figlio di Federico II e dall'altra parte i fiorentini con altri alleati Guelfi compresi i Guelfi Aretini eccetera Guittone era della fazione Guelfa e quindi di fronte a questa immane carneficina della battaglia di Montaperti quella che Dante poi descrive nel decimo dell'inferno quella battaglia che fece l'Arbia colorata in rosso il fiume Arbia che attraversa la zona di Montaperti divenne rosso dal sangue che fu versato in quella battaglia quindi dico Guittone è disperato perché vede la sua parte politica gravemente sconfitta e soprattutto dice che questa sconfitta segna la definitiva rovina di Firenze che non sarà più indipendente sarà servita a Siena e anche ai tedeschi agli alamanni che hanno contribuito alla vittoria di Siena Firenze che avrebbe dovuto essere l'erede di Roma che aveva già una sorta di impero perché dubbiamente era il comune leader dell'Italia centrale adesso è precipitata nella sconfitta a causa della divisione interna dei contrasti fra Guelfi e Ghibellini che l'hanno attanagliata quindi si addolora per la disfatta e poi passa all'ironia al sarcasmo all'invettiva di per sé il genere di questo componimento è il Planctus Planctus è un genere provenzale il compianto però per lo più il compianto si faceva per un signore morto per una persona questo è un pianto per una città ecco voi tutti conoscete sicuramente perché l'avete studiato a scuola tutti qualunque sia il percorso di studi che avete fatto un Planctus scritto nell'Ottocento il pianto antico di Carducci quando muore suo figlio Dante ricordate l'albero a cui tendevi la pargoletta mano il verde melograno dai suoi vermigli fior lo chiamava pianto antico perché appunto è questo genere del Planctus che parte dal Medioevo e viene fino all'Ottocento al secondo Ottocento di Carducci ecco vi leggo qualche verso di questa famosissima canzone dedicata alla battaglia di Montaperti al rincrescimento al dolore all'angoscia alla disperazione diciamo pure di Guittone D'Arezzo che riflette sulle conseguenze di questa disastrosa sconfitta per la parte guelfa ai lasso ora è stagione di doler tanto a ciascun om che ben ama ragione che o meraviglio u trova guerigione ca morto non l'ha già corrotto e pianto vedendo l'alta fior sempre granata e l'onorato antico uso romano cacerto per crudel forte villano savaccio villano è ricoverata capite subito mentre lo leggo che è un italiano piuttosto complicato ancora piuttosto aspero questo è il tempo in cui ogni uomo che ama la ragione cioè la giustizia deve piangere deve soffrire al punto che io mi meraviglio che trovi conforto senza che il lutto e il pianto il corrotto e il pianto il lutto e il pianto non l'abbiano già morto non l'abbiano già distrutto non l'abbiano già ucciso vedendo la nobile Firenze che era sempre granata cioè sempre fiorente e l'antico suo costume romano che ha certo per sicuramente perisce certamente muore lentamente il che è crudeltà forte villana che è una crudeltà molto vergognosa se essa non è ricoverata a vaccio se essa non è in fretta soccorsa soccorsa che l'onorata sua ricca grandezza e il pregio quasi è già tutto perito e il valore e il potere si desvia ecco la sua onorata ricchezza la sua grandezza il suo prestigio sono tutti estinti e il valore e il potere va da un'altra parte desvia o lasso or quale dia fumai tanto crudel dannaggio audito ahimè infelice in quale giorno si è sentito di un crudel danno così così efferato Deo qui quasi protesta con Dio Deo come l'hai soffrito come l'hai potuto sopportare come l'hai potuto soffrire deritto pera che la giustizia muoia perisca e torto entri in altezza e che il torto entri in altezza che cioè il torto sia esaltato vedete fior in provenzale in francese siciliano la parola fiore è femminile ma dice l'alta fior e quindi il poeta dato che fior in queste lingue è femminile può sovrapporre Firenze il fiore e quindi Firenze era un fiore che fioriva e che adesso è invece come dire ferito appassito messo in questi termini che ho messo in blu grandezza pregio valore poder c'è questo accumulo sono termini che dicono un po' la stessa cosa è la tecnica dell'amplificatio vedete questo guidone d'Arezzo non è che dica molte cose in questo testo che adesso brevemente vi faccio assaggiare che dice sostanzialmente che disperazione i Guelfi hanno perduto Firenze è stata sconfitta ha perduto la sua gloria disgraziati maledetti che avete rovinato Firenze voi ghibellini che eravate cittadini di Firenze vi siete alleati col nemico senese punto non è che c'è un ragionamento profondo articolato dice questo e poi lo amplifica lo ripete in modo ridondante ecco ci fa costruisce sopra questo grande planctus questo grande lamento ma se poi io dovessi riassumere che cosa c'è davvero nel contenuto sono queste quattro cose che vi ho detto se dovessi riassumere cosa dice Dante in una poesia politica voi capite quanto articolato pensiero si può in esso trovare Dante non si limita a fare delle amplificazioni girando in giro al tema insomma ripetendo in fondo come fa guittone ho messo in verde questa parola altezza perché subito dopo si ripete all'inizio altezza leone nella strofa successiva subito dopo c'è di nuovo leone adesso torno indietro eh torno indietro perché sono andato avanti per farvi vedere questa tecnica che avevamo già visto eh che è quella della cosiddetta koblas capfinidas abbiamo visto anche in altri testi altre volte cioè di questa tecnica di mettere una parola alla fine di una stanza di una canzone che poi si ripete immediatamente all'inizio della seconda strofa della seconda stanza e così via altezza tanta nella sfiorata fiore fo mentre verse stessa era leale che ritenea modo imperiale acquistando per suo alto valore province terre presso l'ungemante cioè nella città di Firenze che adesso è un fiore sfiorito vedete il gioco etimologico ho detto prima la parola fiore in provenzale siciliano è femminile cioè nella città di Firenze che è un fiore sfiorito ci fu tanta altezza cioè tanta nobiltà tanta grandezza mentre essa era leale verso se stessa e si comportava in maniera imperiale come fosse un impero acquistando grazie al suo valore molte province molte terre vicine e lontane mante vuol dire molte province e terre vicine e lontane molte e sembrava che far volesse impero siccome Roma già fece e leggero lì era ed era facile che lo facesse un impero come Roma che qualcuno non poteva stare davanti che nessuno poteva stare davanti a Firenze ora è chiaro che mamma mia non è che Firenze potesse pensare di fare un impero romano ma non c'è dubbio che nel momento i migliori Firenze controlla quasi tutta la Toscana e il fiorino è la moneta più importante d'Europa quella che è stato il dollaro fino a qualche tempo fa e quindi aveva questo ruolo diciamo egemonico Firenze non solo a livello italiano ma anche a livello europeo poi pensate gli anni di Lorenzo il Magnifico che era l'ago della bilancia della politica italiana e ciò gli stava ben certo a ragione che non se ne penava per pro tanto come per ritenere giustizia e poso e quindi e questo fatto di cercare un potere imperiale l'espettava a buon diritto a ragione perché non penava tanto per sé cioè non si dava da fare non soffriva per il suo pro per il suo vantaggio come invece per mantenere giustizia e poso cioè giustizia e pace e poi fogli amoroso de fare ciò e poiché gli fu caro fare questo cioè difendere la pace difendere la giustizia si trasse avante tanto divenne tanto importante divenne tanto potente che al mondo non accanto che nel mondo non c'è luogo un onsonasse il pregio del leone dove non risuonasse il prestigio il prestigio del leone il leone che è il simbolo il simbolo di 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 Firenze è nello stemma di Firenze lo vedete il leone con il giglio no? quindi queste metafore il fiore sfiorato il leone vengono dallo stemma fiorentino che è il marzocco c'è il leone che regge uno scudo ornato dal giglio e adesso infatti riprende questo tema del leone leone l'asso or non è che oliveo tratto l'unghie e gli denti e lo valore e il gran lignaggio suo morta dolore ed è in crudel prigion missagra greo ora invece non è più un leone Firenze perché io gli vedo tolte le unghie strappate le unghie i denti e il valore e la nobile stirpe del leone è stata uccisa a dolore cioè dolorosamente ed è stata messa con malvagità a gran reo in prigione e chi gli ha fatto questo? e ciò gli ha fatto chi? quelli che sono della schiatta gentil sua strati e nati cioè questo male gliel'hanno fatto quelli che sono discesi e nati dalla sua nobile schiatta e che fur per lui e che sono stati grazie al leone cioè grazie a Firenze cresciuti e avanzati sopra tutti altri cioè a fargli male sono stati proprio quei suoi concittadini quei suoi cittadini cittadini del leone che il leone cioè Firenze aveva fatto tanto crescere aveva tanto arricchito ed inalzato ovviamente e li aveva anzi collocati a buono li aveva messi in condizioni di prestigio cioè sono i ghibellini i ghibellini sono dei fiorentini che hanno pugnalato la loro città hanno affossato la loro città e per la grande altezza ovelimise e nantir cioè per la grandezza alla quale il leone cioè Firenze gli aveva fatti pervenire i nantir cioè in superbirono diventarono così orgogliosi al punto che ferirono il leone quasi a morte che il piagar quasi a morte e qui ci sono raccontati in pochi versi le famose tragiche vicende di Firenze nel giro di vent'anni Deo di guerigion feceli dono e del felor perdono cioè i ghibellini ferirono Firenze il leone quasi a morte ma Dio gli fece dono della guarigione ed egli il leone li perdonò qui si allude a vicende in cui in un primo tempo appunto i guelfi sono stati cacciati dai ghibellini e quindi lui dato che è un guelfo dice hanno ferito a morte Firenze quando dice che li fece perdono è perché in sece si tratta di un momento in cui evidentemente i guelfi sono tornati avrebbero potuto prendere delle vendette feroci e invece non l'hanno fatto e anche al refedier poi e poi lo ferirono di nuovo ma fu forte e perdonò la loro morte nel 1258 i ghibellini fecero una specie di congiura e i guelfi li cacciarono fuori ma non li uccisero cioè li mandarono solo in esilio perdonarono la loro morte cioè risparmiarono loro la vita e ora hanno lui e sue membra conquise e invece come tutta risposta questi ghibellini adesso hanno ferito conquistato lui e le sue membra 1260 alla battaglia appunto di Montaperti ecco queste date sono le stesse che ricorda poi Farinata degli Uberti nel decimo canto dell'inferno quando discute con Dante Farinata è un ghibellino appunto uno dei terribili nemici di Guitone infatti Guitone detesta gli Uberti sono i nemici ghibellini e quando Farinata discute col guelfo Dante appunto ricordate gli dice chi sono stati i tuoi antenati e Dante gli dice si chiamavano Alighieri evidentemente allora Farinata dice fieramente furro avversi a me ai miei primi e a mia parte sicché per due fiatere dispersi i tuoi sono stati sempre nemici e io due volte li ho dispersi e appunto sono il 1248 e il 1260 le due volte in cui i ghibellini hanno prevalso e Dante aveva replicato ma Dante nel 1300 nella finzione del viaggio aveva replicato ma guarda che non è vero che tu li hai dispersi hai solo cacciati solo che i miei sono tornati a Firenze e i tuoi i ghibellini non sono più stati capaci sei fuor cacciati e ritornare ad ogni parte risposi io lui e l'una e l'altra fiata ma i vostri non appresero ben quell'arte cioè il dialogo tra Farinata e Dante è proprio fatto di questi quattro elementi di queste quattro date 48-51 58-60 vittoria ghibellina vittoria guelfa cacciata di ghibellini definitiva vittoria ghibellina ma nel 1260 poi le cose sono andate avanti nella storia nel 1266 morto il re Manfredi i guelfi hanno definitivamente hanno definitivamente prevalso ma questo quando scrive Guittone questa canzone non lo può sapere evidentemente è il momento peggiore quello per un guelfo dopo la battaglia di Montaperti e di fatti ecco il lamento conquiso è l'alto comune fiorentino e col senese in tal modo ha cangiato che tutta l'onte il danno che dato gli ha sempre come sa ciascun latino gli rende e gli toglie il pro e l'onor tutto ecco l'al grande comune di Firenze è stato conquistato e ha cambiato sorte con il senese perché tutta l'onte il danno che prima Firenze aveva dato a Siena come sa qualunque italiano ora Siena glielo rende e gli toglie il vantaggio e gli toglie il potere e gli toglie l'onore cioè in questo terribile sanguinoso derby fra Senesi e Fiorentini prima era sempre Firenze avere la meglio ma adesso la sorte si è rovesciata e dopo la battaglia di Montaperti è Siena che ha conquistato non solo Firenze ma tante terre che erano in possesso di Firenze qui fa l'elenco che Montalcino aveva battuto a forza ha battuto a forza le mura di Montalcino Montepulciano miso in sua forza ha conquistato Montepulciano e de Maremma ha la cervia e il frutto ha della Maremma il frutto e il tributo la cerva perché mandavano era simbolo della cerva che veniva mandata come simbolo di sottomissione quindi ha ridotto il suo potere Montepulciano e ha attributo la rendita della Maremma che era dei conti di Santa Fiora per la verità San Gimignano Pogibonzi e Colle Volterra e il paese a suo tene quindi ha conquistato San Gimignano Pogibonzi Colle Valdelsa Volterra e tutti i territori circostanti e poi gli ha preso anche la campana cioè la campana del carroccio fiorentino cioè l'ha anche come dire umiliata Firenze togliendoli questo simbolo della sua libertà e la campana le insegne gli arnesi e li hanno tutti presi ave con ciò che seco avea di bene quindi gli ha presa la campana le insegne le armi tutti gli arredi e tutto quello che aveva di buono in sé e tutto ciò gli avviene per quella schiatta che più che altre fonne e tutto questo chi l'ha fatto accadere di chi è la colpa di tutto questo di quella famiglia che è più folle di tutte le altre ora qui molto interno perché quella famiglia si riferisce proprio agli uberti a Farinata degli uberti altri dicono schiatta intende genericamente i ghibellini nemici ma è molto probabile che si riferisca a Farinata perché poi quando si rovesceranno le sorti appunto Farinata era già morto ma fu dissepellito fecero un processo al cadavere buttarono il cadavere suo e di sua moglie nell'arno decapitarono due figli in piazza altri furono esiliati le case degli uberti ghibellini furono rase al suolo a Firenze e infatti ricordate che poi Farinata degli uberti quando incontra Dante all'inferno decimo canto dell'inferno si lamenta di questo trattamento contro la sua famiglia e rivendica di essere stato quello dopo la battaglia di Montaperdi questa di cui si sta lamentando con questi termini così esasperati Guittone essere stato quello che pur avendo vinto si oppose alla distruzione di Firenze che il re Manfredi avrebbe voluto là dove sofferto fu per ciascun di torre via a Fiorenza fui io che la difesi a viso aperto dove quando certo io ho fatto del male a Firenze so di essere stato dice Farinata Dante protagonista di vicende dolorose ma sono stato anche il solo quando tutti la volevano radere al suolo che la difesa a viso aperto dicono le cronache che nel concilio di Empoli subito dopo la battaglia di Montaperdi Farinata degli uberti di fronte alla proposta dei capi ghibellini di radere al suolo Firenze sconfitta si alzò e minacciò con la spada chiunque avesse osato distruggere la sua città cioè per un momento non fu dice Dante uomo di parte lo dice Dante il Guelfo non fu uomo di parte ma fu fiorentino difese la sua città andrò oltre i limiti diciamo del partito ma questo ovviamente Guitone non lo sa cioè lo sa e non lo riconosce a Farinata ecco e comunque è il dolore di uno che si sente perduto e sconfitto a voi che siete ora in Fiorenza dico che ciò che è divenuto parva d'agia e poi che gli alemanni in casa avete servitei bene e fatevi mostrare le spade loro che vanno fesso i visi e i padri e i figli uccisi ecco parlo a voi che siete adesso a Firenze e che vi adagia e sembra che vi adagi cioè sembra che vi piaccia quello che è successo e dato che avete i tedeschi in casa ripeto i tedeschi perché il re Manfredi aveva la cavalleria tedesca che era stata determinante nella vittoria di Montaperti dato che avete i tedeschi in casa serviteli bene fatevi mostrare le spade con le quale vi hanno ferito i visi e vi hanno ucciso padri e figli e piace me che loro dobbiate dare perché ebbero in ciò fare fatica assai le vostre gran monete e ci goddo che voi dobbiate dare un sacco di soldi a questi tedeschi che hanno occupato Firenze perché hanno faticato molto nel compiere questa fatica nel compiere questa strage sentite il sarcasmo la rabbia bravi adesso che ce li avete in casa i tedeschi sono proprio contento che dobbiate pagare tributi tasse a loro fatevi vedere quelle spade che sono quelle con cui hanno ammazzato i vostri padri i vostri figli con cui hanno ferito i vostri visi ecco quel tipo di invettiva che ripeto Dante anche se non lo riconosce finirà poi per imitare questa è l'ultima frase della canzone l'ho tagliata ovviamente dice questa è sarcastica dice venite tutti a festeggiare Firenze baron lombardi e romani e pugliesi e toschi e romagnoli e marchigiani fiorenza fiore che sempre rinovella a sua corte a sua corte vappella cioè signori del nord nel rombardi non vuol dire della lombardia attuale non vuol dire tutti quelli italiani del nord romani vuol dire Italia centrale pugliesi dice Italia del sud toscani romagnoli marchigiani Firenze fiore che sempre fioisce vedete che torna sempre questo gioco sulla parola fiore a sua corte vappella vi chiama la sua corte che fa revol de se re dei toscani dopo che gli alamani ave conquisi per forza i senesi perché Firenze vuol diventare regina della Toscana dato che ha conquistato i tedeschi e i senesi naturalmente è l'opposto non ha conquistato i tedeschi e i senesi ma i tedeschi e i senesi hanno conquistato Firenze ecco questa è la rabbia con cui si rivolge ai nemici Guittone d'Arezzo questa poesia aspra dura ecco poi c'è il momento che vi dicevo Guittone si converte già questa precede di poco la conversione perché abbiamo detto che questa è la battaglia di Montaperti del 1260 Guittone cambia nettamente poesia dal 1265 quando entran quei frati della milizia della Vergine Maria che poi sono anche criticati e sarcasticamente definiti frati gaudenti ecco quando lui sceglie la poesia della religione della fede rifiuta tutta la poesia d'amore che aveva scritto prima intendiamoci la rifiuta ma poi nel suo canzoniere chiamiamolo così noi perché lui non l'ha chiamato così nel corpus dei suoi scritti che gli ordina non è che le butta via le mette proprio perché vuol far vedere come un superamento di quella poesia disegnare un itinerario un cammino per questo vi dicevo poi anche Petrarca dipende da questo esempio perché Petrarca appunto scriverà 365 pezzi più uno esattamente i giorni dell'anno canzoniere fatto di 365 pezzi più uno i medievali sono sempre attenti al tema del numero i canti della divina comedia sono 100 le novelle del Decamerone di nuovo dieci giorni dieci novelle 100 questa attenzione ai numeri che hanno un valore simbolico nel mondo nostro ovviamente non sono più compresi ma dicevo dal 1265 cambia poesia e rifiuta di fare le poesie d'amore e dato che invece nella tradizione provenzale ma non solo anche in Sicilia si diceva che l'uomo che vuole fare il poeta non può che esprimere amore solo l'uomo innamorato può produrre dei versi di valore Guittone invece vuole affermare che non è vero perché l'amore può portarti al peccato può essere opera demoniaca follia e quindi deve assolutamente sostenere Guittone che si può fare si deve fare poesia una poesia della rettitudine chi deve ben cantare sceglie come guida Dio la rettitudine come stella polare cioè non è vero che se non sei innamorato non puoi produrre versi di valore devi essere un uomo retto nessuno conquista onori seguendo i desideri carnari diceva ma astenendosi dal peccato quindi per essere un vero poeta bisogna seguire Dio ecco quindi la ricerca dell'onore anche per un poeta viene attraverso imprese politiche militari attraverso la rettitudine religiosa non attraverso l'amore anche questo tema ripeto Dante non può abbiamo letto la critica così dura che fa Dante a Guittone però anche Dante nella Divina Commedia supera un certo modo di concepire l'amore e diventa il poeta della rettitudine non dico che fa proprio lo stesso itinerario di Guittone ma non c'è dubbio che dal canto di così parliamo anche un po' di Dante che è il Dante di oggi e ha questo scrupolo di averlo trascurato e tradito proprio nella sua festa perché oggi è il giorno in cui secondo la tradizione è incominciato il viaggio di Dante all'inferno è il giorno che si è perso nella selva oscura era quel venerdì santo in cui aveva incominciato il suo viaggio bene no dicevo che anche Dante appunto parte da un certo comincia come poeta d'amore e poi piano piano diventa poeta della rettitudine pensate come cambia la sua idea dell'amore come lo critica l'amore carnale di Paolo e Francesca e come lo sublima nella figura di Beatrice e allora vedete vi leggo questo proprio pochi versi di questa canzone in cui lui dice adesso si vedrà se sono un poeta anche se non parlo più dell'amore or parrà se io saverò cantare e se io varrò quanto valer già soglio poiché del tutto amor fuggo e disvoglio e più che cosa mai forte mi spare ora si vedrà se saprò cantare e se varrò quanto ero solito valere perché da questo momento in poi fuggo del tutto e rifiuto l'amore e più di un'altra cosa mi sembra odiosa cadò un tenuto saggio odo contare che trovare non sa ne valer punto omo d'amore non punto perché io sento dire da un uomo ritenuto saggio forse Bernard de Ventadorn poeta provenzale forse però anche da poeti siciliani che non vale un accidente noi diremmo non vale punto non vale nulla l'uomo che non sia punto d'amore cioè che non sa trovare per nulla ho detto male scusate non sa trovare punto ma trovare vuol dire fare poesie che se uno sente il trovatore di verdi cosa pensa non uno che va a trovare i funghi cosa trova il trovatore il trovatore è quello che è il poeta e quindi non sa fare poesia chi non è punto d'amore dicevano alcuni saggi appunto forse Bernard de Ventadorn ma che è disgiunto da verità mi pare se lo pensare lo parlare a sembra ma questo concetto che appunto non può essere un buon poeta chi non è colpito dall'amore mi sembra un concetto non vero se il pensiero corrisponde a quello che dice se vuol dire proprio questo se lo pensare a sembra lo parlare che in tutte parte dove distringe amore regge follore in loco di savere perché ovunque distringe amore cioè dovunque amore stringe gli innamorati regna la follia al posto del savere al posto della sapienza follia è proprio un termine che usa la poesia provenzale l'amore è sempre segno di follia pensate cosa diventerà poi nell'orlando furioso la follia d'amore portata fino agli estremi limiti dunqua come valere può né piacere di guisa alcuna fiore poi dal fattore d'ogni valore di sembra e dal contrario d'ogni maniera sembra ma quindi come può l'uomo innamorato valere o piacere in alcun modo affatto dal momento che non somiglia al creatore d'ogni valore ma anzi assomiglia del tutto al contrario cioè al demonio quindi non è possibile che l'uomo innamorato sia il vero poeta perché assomiglia al demonio la follia alla quale spinge l'amore quindi un poeta innamorato non sarà mai un vero adesso vedete alcune tecniche importanti per il più la rima cantare contare che lì ho messo in azzurro è una rima paronomastica si dice così quando due parole rimano non solo per la solita rima cioè dall'ultimo accento tonico areare ma prima della rima c'è solo qualche lettera di differenza cioè qui cantare contare c'è solo una al posto di una o quindi è una rima particolare così come vi volevo sottolineare la rima equivoca non sa ne valer punto uomo ad amor non punto si chiama rima equivoca quando rimano due parole che hanno esattamente lo stesso suono punto punto ma hanno un significato diverso ne valer punto vuol dire ne valere per nulla uomo punto proprio punzecchiato dall'amore quindi sono due parole uguali ma con significato diverso e poi il fatto che lui ce l'abbia con la poesia cortese con la poesia d'amore vedete proprio nel fatto che adopera tante parole tipiche di quella poesia trovare che vuol dire poetare valere valore cantare ecco questo va superato perché la nuova poesia di Guittone dopo la conversione del 1265 vi dicevo deve essere tutta dedicata alla rettitudine e all'amore di Dio non all'amore erotico cantato fra l'altro vi dicevo prima cantato anche con dei riferimenti molto concreti a storie d'amore reali non a una discussione astratta come facevano i siciliani quando discutevano come nasce l'amore l'amore nasce dagli occhi l'amore nasce soltanto per sentito dire avevamo letto chi ha seguito questo mio piccolo corso la sfida fra Pier delle Vigne Jacopo Mostacci qual è l'amore è un desiglio che viene dal core per abbondanza di gran placimento oppure no ecco non è questo Guittone fa riverimento proprio all'eros in alcuni suoi testi conclusione qual è veramente l'obiettivo del poeta chi è vero poeta ma chi cantare vuole valer bene in suo legno nocchier diritto pone e donrato saver mette al timone Dio fa sua stella e ver la usor sua spene chi vuole poetare conquistare prestigio valere valere bene nella sua nave pone come nocchiero come timoniere il diritto cioè la giustizia e mette al timone onorato saver l'onorata saggezza fa di Dio la sua stella polare e nella vera lode sta la sua speranza che grande onor né gran ben non è stato conquistato carnal voglia seguendo ma promente valendo ed astenendo a vizi e da peccato cioè perché mai si è conquistato un grande onore né un grande bene carnal voglia seguendo seguendo desideri carnali ma fortemente comportandosi cioè promente comportandosi con valore e astenendosi dai vizi e dal peccato quindi vedete che diventa una poesia di rettitudine e ripeto sembra un itinerario assai simile a quello che con ben altra poesia con ben altra finezza formale con ben altra profondità filosofica e consapevolezza condurrà poi Dante Alighieri abbiamo ancora qualche sì perché sono un'ora posso dirvi ancora un quarto d'ora se avete voglia perché così capiamo la svolta a questo punto mentre vivo Guittone mentre sono vivi tutti quei poeti che abbiamo visto l'altra volta con le loro poesie imitazione dei provenziari e dei siciliani succede la svolta arriva qualcosa di nuovo e il primo a cominciare questa novità è non un fiorentino ma un bolognese un giurista bolognese Guido Guinizelli giudice appunto che ci lascia in fondo solo 20 componimenti 15 sonnetti e 5 canzoni quindi un corpus molto ridotto perché abbiamo detto prima che invece Guittone lascia centinaia di pezzi però questo Guido Guinizelli per un verso potrebbe essere scambiato anche lui con uno di questi poeti che imita la Provenza e imita la poesia siciliana ma già appare in lui qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo che Dante apprezzerà molto tanto da definire Guido Guinizelli padre suo e dei suoi amici padre di questa nuova elite poetica che poi lui definirà dei poeti stilnovisti così li definirà nella Divina Commedia quindi è considerato un precursore di questa svolta non proprio anzi anche qui quando studiavo io al liceo mi dicevano è il primo degli stilnovisti e la critica più recente tende proprio a dire che è un precursore di fatti vi dicevo era amico di Guittone questo laddove invece Cavalcanti e Dante vedevano Guittone come il fumo negli occhi qual è i temi fondamentali di questo poeta intanto dice che l'amore e il cuore nobile sono la stessa cosa che il cuore nobile si innamora ma farà capire subito che la nobiltà non risiede nel sangue non risiede nella stirpe non sei nobile per schiatta la nobiltà la nobiltà è qualcosa di naturale è un dono della natura e vedremo sempre di più che questo dono della natura significa capacità di essere poeta capacità culturale capacità filosofica non schiatta e questo ci fa capire che è una poesia che nasce in ambito comunale dove si definisce una nuova idea di nobiltà che non può essere quella delle famiglie dei magnati che si trasmettono alla nobiltà di sangue ma ci sono nuove personaggi che appartengono a questa elite che non sono di sangue blu ma che rivendicano la nobiltà della cultura che ritengono superiore a quella del sangue naturalmente uno può essere nobile di sangue anche essere nobile per cultura ma non vale l'inverso cioè come dire non è che ti basta cioè la nobiltà di sangue voglio dire non è una condizione sufficiente per essere nobile il canti è nobile però è anche nobile di cultura Dante è piccola nobiltà a livello di sangue ma può essere nobile in questo senso anche uno che non ha il sangue blu uno che non viene da una famiglia già affermata nella classe più alta un altro tema importante che poi riprenderanno da lui per cui lo riconoscono come un maestro Dante Cavalcanti la stupefazione la meraviglia che coglie l'innamorato al passaggio della donna donna che passa per via fra l'altro che quindi abita la realtà comunale e la virtù di questa donna beatifica e il poeta la esalta la loda e preso da una sorta di estasi davanti davanti a lei ecco vi leggo subito anche se siamo già a un'ora di chiacchierata un sonetto di Guido Guinizelli forse il più facile ma quello che ci fa capire meglio la novità e mentre lo leggo adesso lo leggo prima tutto di un fiato poi vi aiuto scusate se lo dico da vecchio professore a decifrarne la novità ma anche appena lo leggo voi sentite la differenza dei suoni tra quelli che abbiamo sentito poco fa così aspri così intricati di Guittone e questo io voglio del ver la mia donna laudare e da sembrargli la rosa e l'ogiglio più che la stella diana splende e pare e ciò che lassù bello a lei somiglio verde rivera lei rassembro e dare tutti i color di fior giano e vermiglio oro azzurro e ricchi gioi per dare medesmo amor per lei raffina meglio passa per via adorna e si gentile che abbassa orgoglio a cui dona salute e il fade nostra fe se non la crede e non le può appressare anche sia vile ancora ve dirò che a maggior vertute null'on può malpensare finché la vede sentite la musicalità sentite le vocali aperte sentite questi suoni dolci che improntano di sé tutto questo componimento ora in questo testo che abbiamo appena letto ci sono dei motivi tradizionali e dei motivi innovativi se uno insiste sui motivi tradizionali e dice beh questo Guido Guinizelli in fondo non è ancora uno stil novista è un poeta legato alla tradizione sicuro provenzale se uno insiste sugli innovativi dice no no è già quasi uno stil novista la bellezza fisica della donna il paragone della donna con la stella abbiamo letto vogliono dare la donna e paragonarla alla rosa e al giglio che poi sono i colori del volto il rosato il bianco del volto splende e si manifesta più che la stella del mattino la stella venere la stella diana la stella che porta il giorno e tutto quello che è lassù bello in cielo lo paragono a lei la paragono ai fiumi all'aria ai colori dei fiori persino l'amore dice può migliorare grazie alla donna e poi anche questo elenco di cose belle che assomigliano alla donna la rosa il giglio i colori i gioielli è la tecnica provenzale del plazer una tecnica dei provenzali era proprio quella di fare un lungo elenco di cose belle di cose piacevoli del plazer per indicare la realtà per esempio della donna e fin qui se io leggo le due prime quartine potrei dire va bene una bella poesia della tradizione ma nelle terzine ci ha detto un'altra cosa torno indietro ve la rileggo un momento dice che la donna passa per via ora poteva in Provenza in Sicilia passare per via la signora era una signora della corte è chiaro che qui siamo in comune nell'ambito del comune della città dove la donna esce di casa poco per la verità quasi sempre accompagnata non è che una donna se ne va in giro a fare shopping a fine del 200 a Bologno a Firenze va accompagnata da altre donne spesso da uomini però però passa per via e dice che abbassa l'orgoglio a cui dona il saluto e addirittura trasforma in cristiano chi non fosse della nostra fede salute salute da dare salute salute dicere in latino vuol dire salutare io ti saluto ciao ti saluto ma dare salute vuol anche dire dare salvezza perché salus in latino vuol dire salvezza quindi c'è nel momento in cui la donna saluta dà salute ha una funzione salvifica rende cristiano uno che non è cristiano beatifica fa del bene fa migliorare l'uomo a cui dona il saluto e uno che sia non nobile che sia vile non può avvicinarsi a lei ma capite non che sia nobile che non gli si può avvicinare uno che non ha il sangue blu uno che non ha il cuore nobile che non ha questa capacità di ammirarla con finezza che non è colto che non è raffinato che non sa poetare in questa maniera nuova anzi dirò che la donna ha una potenzialità ancora maggiore nessuno mentre la vede può fare cattivi pensieri in qualche maniera ti salva ti fa cristiano se non lo sei ti impedisce di pensare male di fare pensieri cattivi di peccare nel momento in cui sei alla sua presenza e di fatti qui lo dico ci sono le lodi delle qualità spirituali della donna ecco queste qualità spirituali la poesia provenzale la poesia siciliana non le metteva particolarmente in luce la bellezza sì certo la donna poteva migliorare l'uomo questo sì ma lo migliorava nel senso che ne faceva crescere attraverso il desiderio spesso non soddisfatto lo faceva crescere nella capacità di poetare raffinava la virtù del poeta certo qui invece addirittura diventa una capacità di raffinare il poeta ma a livello cristiano di rendere buono l'uomo che la donna saluta di dargli salvezza Dante poi su questo dirà molto di più addirittura farà Beatrice la donna della sua salvezza tu mai di servo tratto a libertà dirà a lei nel paradiso ma è un cammino lungo qui appena appena Guinizelli lo imposta con questo tema della donna che salva che non ti fa malpensare finché tu la vedi e la donna provoca un effetto salvifico in chi appunto ha l'avventura di incontrarla perché pone in atto un processo di rigenerazione morale ricoduce il miscredente alla fede e l'ho detto poco fa impedisce a chi la guarda di concepire cattivi pensieri allora voi vedete che qui ci sono già nucleati alcuni momenti che saranno fondamentali poi nella poesia degli stinovisti certo di Cino da Pistoia di Guido Cavalcanti ma soprattutto di Dante c'è questa idea che la donna offre l'inizio di un processo di rigenerazione morale riconduce il miscredente alla fede capite è quasi già qui si adombra quello che poi sarà il cammino di Dante Dante arriverà quasi a pensare che l'incontro con la donna è un po' come l'incontro con Cristo non sto dicendo una cosa blasfema perché l'incontro di Dante con Beatrice è un incontro cristologico cioè questa donna che passa per via e che salutando offrendo il suo sorriso beatifica l'uomo impedisce di pensare male è quasi come un incontro qualcuno che incontra Gesù di Nazareth sul suo cammino che resta affascinato colpito solo dal suo sguardo dalla sua capacità di redimere di salvare Beatrice sarà proprio con lei che viene di cielo in terra miracol mostrare come Cristo è venuto dal cielo sulla terra per salvare l'uomo Beatrice viene dal cielo sulla terra per salvare per salvare Dante e poi torna in cielo dopo un breve soggiorno sulla terra quindi capite che è una figura cristologica ora questo non c'è in Guinizelli non posso ricavare da questo sonetto che vi ho letto tutto questo che vi sto dicendo ma in luce sì cioè di qui si parte per questo Dante riconosce in Guinizelli il padre suo e di tutti i poeti che come lui si sono mossi in questa in questa atmosfera concludo riassumendovi alcuni concetti di questo gruppo di poeti così dalla prossima volta tra 15 giorni se va tutto bene riprendiamo proprio da questi temi ecco vedete non siamo più nella corte l'ho detto nella corte della Provenza nelle corte di Federico II in Sicilia ma è una corte ideale questi uomini nobili che sono nobili in un nuovo modo non c'è più l'omaggio alla signora del castello come facevano in Provenza ma questa donna che passa per via e che è una creatura sempre più spirituale in Guinizelli abbiamo detto c'è la bellezza ancora tutta terrena perché dice che ha gli occhi come la può paragonare alla stella del mattino a Venere a tutti i colori della natura dei prati dei fiori delle gemme però poi delle terzine abbiamo detto c'è questa funzione spiritualizzata la nobiltà è qualcosa di nuovo ho detto non è la nobiltà del sangue non è il sangue blu ma il formarsi di una nuova aristocrazia e questa nobiltà è fondata non sulla la mia famiglia si chiama così perché discende da antenati che hanno combattuto due secoli fa no è altezza di ingegno e l'altezza di ingegno te la dà la natura non te la dà il sangue non è il fatto di essere figlio di qualcuno importante nobile che ti rende alto di ingegno perché potresti essere il più nobile cittadino di Firenze ma essere ignorante non capire nulla di filosofia non saper tenere la penna in mano non sapere minimamente poetare come questo gruppo d'élite e sapere amare non è più come in Provenza è possedere elevata cultura filosofica e artistica quindi il vero poeta è quello che sa amare in questo modo ma nutrendo questo suo amore di concetti filosofici e di una raffinatissima capacità artistica ecco questi poeti proprio discuteranno sul piano filosofico della natura dell'amore e non è che ci racconteranno dicevo anche prima le loro vicende personali il loro diario d'amore le loro cronache personali ma discuteranno sempre in termini generali come che fossero degli scienziati che discutono della fenomenologia dell'amore come uno psicologo moderno che dovesse quando uno vede ricalcati in televisione che fa tutti i suoi ragionamenti sull'innamoramento eccetera parla in termini generali ecco questi poeti parlano dell'amore in termini generali non dicendo io mi sono innamorato di questa e di quella ma ha buttato fuori non mi ama capite non è questo quindi non c'è nessun riferimento a situazioni biografiche precise che invece c'erano in guidone vi dicevo prima nella parte e c'erano anche in altri poeti e poi lo vedremo leggendo alcune poesie stinoviste famose le prossime volte rifiutano gli artifici stilistici pensate i complessi artifici stilistici di Guittone d'Arezzo che abbiamo stasera un pochino conosciuto e invece scelgono uno stile limpido armonioso equilibrato voglio abbiamo appena letto con vocaboli al massimo di tre sillabe senza suoni aspri senza zeta senza x e poi via parole del linguaggio medio e plebeo troppo realistiche quante parole realistiche c'erano nei pezzi di Guittone che abbiamo letto stasera dannaggio il leone che ha perso le unghie i denti invece qui siamo tutti in un'atmosfera raffinata ed elevata e allora dalla prossima volta riprenderemo leggendo due sonetti di Cavalcanti e di Dante che riprendono rime e temi del pezzo di Guinizelli che stasera abbiamo guardato insieme io mi fermerei qui per non stancarvi troppo e spero di non essere stato troppo noioso con questi temi che sono sempre molto come posso dire molto particolari grazie siete riuscite grazie grazie a voi vi offro sempre questi temi molto complicati quest'anno però io mi diverto non so quanto voi perché sono cose che non ho fatto quasi mai e anche sono cose che a scuola si fanno difficilmente si sorvola e sì perché se si va a fare queste cose non si può poi affrontare altri temi insomma il tempo è quello che è e sono anche poi difficili anche perché li dovresti fare con ragazzi di 16 anni non con quelli dell'ultimo